Una vittima, due ricoveri e 30 nuovi positivi. Questi dati di rilievo del bollettino diramato dall'ASREM sull'andamento dell'emergenza coronavirus nel reparto di malattie infettive. Si è spenta una donna di 80 anni di Campolieto e nelle stesse ore, proprio in quelle corsie, un suo concittadino e una persona di Capriati al Botturno venivano ricoverati. Al momento gli ospedalizzati sono 53, 11 in terapia intensiva tra il Cardarelli, il Neuromed e il Gemelli. Il Santimoteo continua a essere covid free. Le vittime ora raggiungono la triste quota di 472. Dai 1.075 tamponi processati sono emersi altri 30 casi con l'indice di contagiosità che sale al 2,79% nella giornata precedente era di sotto dell'1. Centro più colpito Montaquila, 7 nuovi positivi, 5 invece a Campobasso, 4 a Boiano. I guariti sono 33, quindi al momento in Molise le persone affette dal virus sono 613, in isolamento 2650 cittadini.